Sono tanti anni che noi stiamo svolgendo attività mista attraverso l'UPRZ, la società in cui io sono nata, quindi abbiamo una didattica ben formata e abbiamo già i nostri bambini e i nostri bambini che si affrontano i campionati in rose miste, questo è quello che abbiamo voluto riportare anche in un camp, che sarà la prima volta che la Rafa Maniera Academy organizzerà un camp, e quindi vi invito a partecipare per vedere questa nuova didattica, per portare bambini e bambine, ovviamente soprattutto anche bambine perché sono quelle che fanno più fatica ad entrare in un campo da calcio, ci sarò io che li aspetterò a braccia aperte, come aspetterò a braccia aperte i bambini, e cercherò di trasmettere tutta la mia esperienza per accompagnarli anche loro domani, sperando di vederli anche nei grandi campionati come ho fatto io. Questo camp partirà il 12-18 luglio e sarà l'Arzilla, il campo dell'Arzilla, comunale dell'Arzilla, e poi ci sarà anche un'esperienza a San Costanza Marotta per cercare di raccogliere tutti quei bambini e bambine che hanno il piacere di incontrarmi e di giocare insieme con noi, e sarà dal 26 luglio al 1 agosto. Vi aspetto, mi raccomando, Mix Team!